Ora che ci siamo calmati un po' tutti, anche se in realtà siamo ancora contenti, abbiamo questo entusiasmo alle stelle, è normale dopo tanto tempo che non si provavano emozioni del genere, analizziamo meglio la partita, Cagliari-Bologna 2-1 e parliamo veramente di tutto perché il video di ieri è stato una cosa di incredibile, ho predetto il gol di Gaston Pereira e tra l'altro ci tenevo a precisare una cosa perché alcuni nei commenti me lo avete scritto, perché non hai portato la reazione completa, cioè perché non ti sei fatto vedere mentre stavi esultando, ragazzi io ero convintissimo che quando stavo esultando io mi stavo registrando, invece per sbaglio ho stoppato la registrazione, meno male che ho salvato la parte più importante, ovvero quella la decide Gaston e infatti l'ha decisa Gaston Pereira, tre secondi dopo però l'ho detto, Gaston Pereira ha tirato e ha fatto gol, cioè sono Nostradamus ragazzi, sono proprio un veggente, dovete iscrivervi al canale, dovete darmi più visibilità perché ragazzi, cioè state parlando con una persona che vi ha predetto il gol di Cerri e il gol di Gaston, quindi tanta roba, tanta roba, tanta roba, tanta roba, in caso andate a rivedervelo, però volevo scusarmi per questo, piccolo errore, purtroppo mi sto mangiando le mani da ieri ragazzi, io ero felice e triste allo stesso tempo proprio per questo motivo, appena finita la partita, quindi ripeto scusa ancora e la prossima volta cercherò di essere più attento, la prossima volta non mi metterò i guanti perché è la colpa dei guanti, guanti di merda, guanti di merda, non li metterò mai più, non li metterò mai più i guanti, allora detto questo facciamo una sorta di mini pagellone, una sorta di video analisi, possiamo metterla così, all'inizio mi sembravano i Cagliari di Zeman, ve lo giuro, ve lo giuro perché all'inizio il Cagliari si è messo tipo a destra c'era solamente Bellanova e poi Altare dietro e a sinistra c'erano tutti, Carboni altissimo, mentre stava battendo il calcio d'inizio il Cagliari, quando ancora non ha fischiato l'arbitro di fischio d'inizio, c'erano tutti pronti a partire sulla sinistra e il lancio di Marin, poi alla fine schema che non è servito a niente, però mi gasa, mi gasa, mi ha gasato e già da questo ho capito come sarebbe andata la partita, come potesse essere un'occasione per il Cagliari, il Cagliari che ha giocato bene nel primo tempo, il palo di Bellanova, però poi si è spenta molto la partita, dopo il ventesimo minuto non hanno iniziato a giocare, come ho detto anche nel video di ieri. Secondo tempo invece Cagliari sfortunatissimo, ma in questo caso posso rimproverare Cragno, posso rimproverare Cragno, posso? Posso, perché non è possibile che prenda sempre il solito gol, è il terzo gol che Cragno prende da quella mattonella, l'ha preso contro la Roma da Pellegrini, contro l'Udinese da Deulofeu e ieri contro il Bologna da Ursulini, che per carità ha fatto un bel gol, però piazza meglio questa barriera, santo Dio, piazza meglio questa barriera e soprattutto la barriera, cioè può essere anche piazzata male la barriera, però anche quelli che ci sono in barriera, cazzo ma porca miseria, ma dovete coprire voi quel palo, il portiere deve coprire l'altro, poi una volta che va la palla verso il palo coperto dalla barriera, giustamente il portiere deve cercare di volare, però lì Cragno dal punto di vista dei riflessi ha poche colpe, dal punto di vista della barriera direi che ne ha parecchie, ma era già un problema che si era visto contro l'Udinese. Detto questo, a parte questo il Cagliari si è ripreso, il Cagliari ha segnato con un tiro di Gaston Pereiro, un tiro sporchissimo di Gaston Pereiro e poi Pavoletti è riuscito anche a coordinarsi bene, grandissimo gol di Pavoletti, secondo gol di fila, è veramente importante e fondamentale, soprattutto visto che attaccanti non ne abbiamo in questo momento, che Pavoletti rientri al più presto, veramente tanta 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 roba perché poi Pavoletti adesso è più protagonista rispetto alle scorse partite e alla prima parte della stagione dove non ha fatto vedere grandi cose, però il Cagliari in questo 2022 già ha due vittorie, è un'ottima cosa. Poi, vabbè, Gaston Pereiro che è entrato, assist e gol, tanta tanta roba, però lì posso dire che era un po' un tiro di merda di Gaston Pereiro. Abbiamo risultato tutti, però Skorupski, mamma mia che erroraccio pazzesco che ha fatto, meglio per noi se ci mancherebbe altro, però volevo sottolineare la papera clamorosa di Skorupski perché il difensore lo stava coprendo perfettamente, lo stava coprendo al secondo palo, il difensore l'ha portato verso il primo palo e il primo palo è del portiere, la colpa è tutta del portiere perché quel palone non può mai passare, può passare dal difensore, ok, ma dal portiere sul primo palo, no, perché poi ripeto, il difensore si era piazzato bene perché lo stava mandando verso l'esterno, verso il primo palo, perché il secondo palo stava coprendo tutto lui, e adesso non mi ricordo chi è il difensore. Comunque il Bologna mi ha dato questo fastidio allucinante, l'ho detto pure nel video di ieri, che mi sembrava una partita di nuoto, che avevo visto Federica Pellegrini che era tornata, cioè ragazzi, ma santo Dio, va bene perdere tempo, ma tra Skorupski che stava perdendo incredibilmente tempo, e tra Bonifazi che era a terra 3-4 volte, Bonifazi mi sta sul culo come giocatore, mi sta veramente sul culo, mi sta veramente sul culo, poi se mi vede il personale mi dà due cefoni perché è un gigante, un colosso, però mi stai sul culo, Kevin Bonifazi adesso al minimo mi blocca tipo Caceres, e vabbè comunque anche altri giocatori, e mi ha dato veramente fastidio questa cosa, è il karma, godo, 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 questo è il karma, e stavo per dire, secondo me perdiamo, dopo l'1-0 del Bologna, secondo me perdiamo perché è il karma, visto che il Bologna è tipo Torino-Fiorentina, con il Torino che vince 4-0 a casissimo, dopo che aveva appena finito la quarantena, che umilia così la Fiorentina, ho detto non dirmi che è lo stesso caso della Fiorentina, invece siamo riusciti a vincere, seconda vittoria di fila che è fondamentale per il morale, e ci dà veramente fiducia, ci dà più tranquillità, ci serviva quella tranquillità, perché il Cagliari era obbligato a vincere, obbligato a vincere la prossima contro la Roma, la Roma è la Roma che deve essere obbligata a vincere, la Roma che deve inseguire, la Roma che deve per forza vincere, che altrimenti sarà una figuraccia, il Cagliari invece ha tutta la tranquillità del mondo, e questo mi fa ben sperare, mi fa ben sperare contro la Roma. Poi ragazzi, parlando dei singoli, mi sono piaciuti veramente tutti, la difesa mi sembra molto più solida, e alla fine aveva ragione la società, che i problemi erano Casser e Seggodin, perché anche a livello dello spogliato, a livello di gruppo, mi sembra un gruppo molto compatto, e soprattutto a livello fisico, a livello fisico finalmente il Cagliari vince qualche contrasto, perché ogni volta che c'era un contrasto, i giocatori avversari ci mettevano molta più grinta, e perdevamo sempre palla, invece adesso siamo noi a mettere quella grinta in più, rispetto al Bologna, e siamo riusciti a strappare quasi sempre palla, a vincere i rimpalli, questo è quello che volevo, un po' più di cattiveria agonistica, un po' più di voglia di fare, di prendere palla, e di tornare all'attacco, perché il Cagliari ha giocato in attacco, poi ha creato, non ha creato chissà quante occasioni, però giocava in attacco, è questo che mi piace, finalmente, finalmente un Cagliari che riconosco, un Cagliari che riconosco, e sono contentissimo di questo, devono continuare così, contro la Roma voglio vedere massimo impegno, come hanno fatto nel match di ieri, giocato all'Unipoldomus, detto questo, parlando dei singoli, Bellanova fondamentale, forse è diventato un giocatore imprescindibile, e in prestito, adesso di proprietà del Bordeaux, ma spero che venga riscattato, cioè Bellanova, se ci salviamo, deve essere nostro, deve rimanere a Cagliari, è un giocatore fondamentale, ragazzi, veramente fondamentale, quindi complimentoni a Bellanova, complimentoni anche al centrocampo, che incredibilmente mi è piaciuto, e ragazzi, il peggiore tra i tre, il meno brillante, possiamo dire così, perché mi sono piaciuti tutti e tre alla fine, sono ripresi tutti e tre nel secondo tempo, però ragazzi, Marin, Marin ha fatto meno rispetto a Grassi e De Iola, e sono contentissimo, perché finalmente si vedono anche gli altri centrocampisti, non solo Marin, poi Marin, ripeto, ha giocato, non ha giocato davanti come contro la Sampdoria, è un giocatore che deve giocare più offensivo, perché non è un recupero a palloni Marin, però comunque, va bene comunque, cioè, finché si vince, questi discorsi, non reggono in piedi, quindi a me va bene così, va bene? A me va bene così, ecco. De Iola, l'Iniesta di San Gaffino, ragazzi, che ha dato, ha dato veramente tanto partita, di grande sacrificio, grande impegno, è stato giustamente applaudito, perché è un giocatore che ha ricevuto tanta, tanta di quella merda, ma è un giocatore che a me piace, meglio di Grassi, secondo me, può essere anche da alcuni giocatori che non è da Serie A, per me invece è da Serie A, per me è da Serie A, però ragazzi, in tempi migliori, lui come Panchinaro, ci sarebbe tantissimo, in tempi migliori, adesso giustamente, non puoi fare gli straordinari, deve giocare lui, e sta giocando bene, ha giocato, ha confermato la partita contro la Samp, non è arrivato il gol, come al Ferraris, però ragazzi, tanta roba, cioè De Iola, questo è il De Iola che voglio, questo è il De Iola che voglio, questo è il Grassi che voglio, ha giocato bene anche Grassi, a me Grassi non piace, però devo dire che ha giocato molto bene, ha provato addirittura il tiro, eppure De Iola ha provato il tiro a giro, la sua mattonella, la mattonella dell'Iniesta di San Gavino, di poco così, di un pelo così, ma ragazzi, il giocatore è fenomenale, l'Iniesta, detto questo, Grassi, anche Grassi aveva provato il tiro, è un po' scordinato, però per il resto, ha fatto una partita anche lui, di grande sacrificio, e si è veramente impegnato tanto, impegnato tantissimo Grassi, sulla sinistra, non mi sono piaciuti, Lico Giannis che, a differenza di Dalbert, non ha fatto errori, Lico Giannis non si è visto tantissimo, come gli altri, Dalbert ha fatto erroracce incredibili, e mi dà fastidio il fatto che Dalbert, non fosse fischiato, come è stato fischiato Lico Giannis, Lico Giannis è uscito dal campo, è riempito di insulti, di fischi, ragazzi ma Lico Giannis non ha fatto una brutta partita, io non ho capito gli insulti, e i fischi, perché ha fischiato tutto lo stadio, perché c'era lo stadio ieri, ha fischiato tutto lo stadio Lico Giannis, quando è uscito, quando è stato sostituito da Dalbert, e non capisco questo accanimento, nei confronti di Lico, Lico che comunque, per carità, non ha fatto questa partita straordinaria, però non ha nemmeno fatto una partita, come le altre, dove ha giocato male, e per una volta che gioca bene, deve essere fischiato, cioè non ha giocato, ripeto, benissimo, però è una partita discreta, è una partita da sé in pagella, non capisco perché, debba essere fischiato, quando non ha fatto nulla, cioè questo significa, non guardare la partita, prendere un giocatore di mira, e accanirsi contro di lui, non va bene, perché non è solamente colpa di Lico Giannis, quando abbiamo perso, contro l'Udinese, o quando abbiamo perso, contro le altre squadre, quindi, che non si facciano questi accanimenti, nei confronti di giocatori, che non c'entrano niente, poi Lico Giannis, deve forse anche andare in prezzo, dalla Samp, e sta parlando di questo scambio, verre Lico Giannis, io spero si faccia, però in caso, Lico Giannis, non è tanto peggio, di Dalbert, che Dalbert, ha fatto veramente, cagare, punizione, ma non so se avete visto, la punizione, a un certo punto di Dalbert, ma che cazzo di punizione ha tirato, cioè io, va bene, tutto abbiamo vinto, ma Dalbert, sei scandaloso, sei veramente, l'anticalcio, l'anticalcio Dalbert, sei veramente l'anticalcio, incredibile, ma poi, Dalbert in tutto questo, almeno, Lico Giannis, provava, a, a prendere il pallone, Dalbert, zero, Dalbert, era lui con un difensore del Bologna, Dalbert, se n'è andato, così, voleva regalare il pallone al Bologna, non ha provato il contrasto, il duello per prendere palla, come stanno facendo gli altri giocatori, no, Dalbert deve fare il diverso, e a questo punto, vattene, tornatene da dove sei venuto, vai all'Inter, che ti rigireranno in prestito, perché a questo punto, così è, è a proposito di calciomercato, Calafiori, ce l'ha preso il Genoa, si è beffato il Cagliari, quindi, non so adesso, se Lico Giannis, partirà lo stesso, alla Samp, o meno, perché comunque, noi dovevamo, avere Calafiori, Calafiori che alla fine, c'è stato sottratto dal Genoa, e quindi, forse, cioè, rimarremmo così, con Lico Giannis ed Dalbert, potrebbe essere, però, io ragazzi, un altro terzino, serve, perché lì a sinistra, non siamo messi bene, lì a destra, tanta roba con Belanova, con anche Nandes, che è tornato negativo, anche Zappa, qualche partita buona, l'ha fatta pure lui, dai, non è tutto questo, giocatore, che non è in grado, di giocare al Cagliari, ha toppato diverse partite, quest'anno, però, qualche partita buona, l'ha fatta pure lui, però, ragazzi, a sinistra abbiamo veramente un buco, abbiamo una voragine incredibile, infatti, tutti i gol che, abbiamo subito quest'anno, in Serie A, sono pariti tutti dalla sinistra, siamo scopertissimi, quindi, deve essere al più presto, preso, un terzino sinistro, perché, ragazzi, altrimenti, non possiamo andare avanti così, niente, ragazzi, 15 minuti di video, lo so che sono, sono veramente tanti, però, avevo bisogno di parlare, avevo bisogno di, dirvi la mia, su questa partita, poi, vabbè, per quanto riguarda l'attacco, Pavoletti, ripeto, mi sono già espresso prima, Joe Pedro, partita anche lui, di sacrificio, ha provato anche lui il tiro, è stato, un po' troppo, come posso dire, non è stato preciso, per la conclusione, però, poco mi interessa, perché abbiamo vinto 2-1, con Gaston, e continuiamo così, a questo punto, continuiamo così, ragazzi.